Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero, suona ciò che ami, più suona e più l'ami. Oggi inizia Innoti alla città che è una rassegna che dal 2002 come cooperativa Camera Sud portiamo avanti e ha un obiettivo innanzitutto, quello di restituire un pubblico al cinema documentario, al documentario italiano. Quindi il nostro obiettivo è offrire la possibilità di vedere alcune delle più recenti produzioni documentarie in Italia e quindi far avvicinare un pubblico anche di non specialisti a questo genere. Da quest'anno siamo qui a Villa Silos, detta la Contessa Bitonto, il primo anno che la facciamo qui la rassegna perché è nata dalla collaborazione con una cooperativa di Bitonto che si chiama Ulixes con la quale abbiamo immaginato di impiantare in questo spazio un cinema all'aperto e quindi proporre al nostro pubblico la visione di documentari ma anche la possibilità di accedere a delle mosse fotografiche, che è una masterclass al giorno con registi e fotografi, insomma un programma abbastanza ricco che spero riscuota l'interesse delle persone. Abbiamo progettato e curato l'allestimento per il cinema di Gnotia della città che comincia da oggi per altri tre giorni alla Contessa di Bitonto e abbiamo realizzato questo allestimento durante un cantiere partecipato con dei volontari bitontini e dei ragazzi migranti della Cass di Corato. Il nome che abbiamo scelto per questo progetto è Cinema Tropico perché abbiamo individuato questo albero nel centro dell'aiuola della Contessa come fulcro intorno a cui sviluppare l'allestimento del cinema e in cima a questo albero ci sono tipo quattro nidi di pappagalli che per noi tarantini sono un po' atipici come animali in libertà. Invece qui a Bitonto abbiamo scoperto che c'è una colonia di pappagalli cocorito che vive in libertà e quindi abbiamo scelto di dedicare questo allestimento a questo animale esotico. Infatti le bandiere che sventolano sull'allestimento raffigurano delle piumaggi del pappagalli ma anche delle foglie tropicali. L'allestimento è composto da alcune sdraio che sono state realizzate con i ragazzi migranti utilizzando dei materiali di recupero quali dei teli in PVC, microforati che vengono utilizzati per la seduta e poi la seconda parte è una struttura che è un po' più stabile e si compone di queste due alzate che permettono comunque di fluire lo spazio in maniera molto più libera di come potrebbe essere semplicemente per un cinema. Infatti quando il cinema verrà smontato questo allestimento resterà e chiunque vorrà farne utilizzo potrà inventarsi il modo più idoneo per utilizzarlo. Radio Doppio Zero Suona ciò che ami Più suona e più la ami Più suona ciò che vuole